Una nube di fumo nero ha oscurato domenica scorsa il cielo bitontino. Poco dopo le 14, infatti, un incendio di grandi dimensioni ha interessato l'impianto di smaltimento rifiuti Eco Group Planet, situato tra Palo del Colle e la nostra città. Un disastro per l'azienda, ma anche per l'ambiente. Le fiamme, spente solo dopo molte ore dai vigili del fuoco, hanno avvolto infatti plastica, metalli e olio esausto. Il rischio è dunque che la diossina, sprigionata dal rogo, possa aver inquinato l'aria e le coltivazioni di Bitonto e delle città limitrofe. La direzione del fumo sembrerebbe scongiurare il pericolo di interessamento del nostro centro abitato, ma l'ARPA è corsa subito ai ripari. L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale ha infatti installato due campionatori d'aria sul tetto della stazione dei Carabinieri di Bitonto e in direzione nord verso l'aeroporto di Bari Palese. L'analisi speditiva inoltre sarà effettuata sui terreni presenti nell'area interessata, che saranno campionati. In attesa dei risultati, che si potranno conoscere solo fra una settimana, il sindaco Michele Abaticchio e il commissario prefettizio di Palo del Colle Rossana Riflesso hanno firmato un'ordinanza per vietare di vendere o consumare prodotti agroalimentari coltivati. I terreni bitontini interessati sono quelli dell'area delimitata a nord dalla SP91 Bitonto-Santo Spirito, a est dal confine con i comuni di Bari e Modugno, a sud dal comune di Palo del Colle e ad ovest dall'anello stradale della Poligonale. Sino a data da destinarsi, nella nostra città sono anche sospesi il conferimento e la raccolta di plastica, carta e vetro. Spero che oggi la regione ci dia le alternative per quanto riguarda gli impianti. Ager sta lavorando all'acremente da questo punto di vista, noi i dati li abbiamo trasmessi un'ora dopo, i dati dei depositi necessari per questo, quindi ad ore aspetto un'indicazione per poter riprendere il servizio normalmente. Dal nostro primo cittadino anche la speranza che sia fatta giustizia. Aspetto il risponso della magistratura che starà sicuramente lavorando sulle modalità in base alle quali si è avvenuto questo incendio.